che bella notizia che mai no tu fai sindaco mi parlano troppo ampress zio di notto lo sa io so tutto di te e tu scrivi sempre caro zio di notto mi sono iscritto all'università caro zio di notto mi sono laureato a pieni voti caro zio di notto mi sono candidato a sindaco di questa città oh yes ecco qua ma tu eravente sei venuto in Italia perchè ti devi sposare io ho sempre detto tu ragazzo molto intelligente oi come tu yes yes sai com'è è arrivata a una certa età non si pensa più al futuro si pensa a morte però si pensa anche al passato tutta la vita che tu hai fatta e se nella vita tu hai fatto molto male vai all'inferno yes yes allora pensate che io prima o poi devo morire perché io voglio recuperare voglio riparare il torto così i go in paradise with all my shoes ma fu i show in paradise hai capito no che shoe no vado in paradise con tutte le mie scarpe cosa dice scusa fammi capire una cosa ma tu ti puoi soltanto perchè devi riparare un torto io ho detto scusate scusate ma qualcosa con la luce rassale ho già detto perché sapete com'è Voi voi sposate ma chi vuoi far fare? Siete sei come fare cosa e poi sei conche cosa ma fa fessa Zizzo 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 What mean fissa? No problem Filippo Allora la donna will marry me! Marylina? No, che Marylina? Will marry me che mi sposerà! Ah, che sposerà? She loves me! Ah, sono sposato perchè io lo amo tutti i sceli! No, no! She loves me mi vuole bene! E' una vera donna di classe! Dico, ma hai capito? Hai capito? La sua è una donna di classe! Ma saranno solo con le classi! E io e lei abbiamo pensato di lasciare tutto il mio patrimonio a nostro figlio! Ovviamente questa copertina fosse profitto! Perchè il nostro canale! Non iscrivetevi al nostro canale! Perchè ho un po' diost unità, perchè! Questa è? La conunica è che ci sono stati costretto con le stagione! Questa è la procedura che ci troviamo noi! Questa è la procedura! Questa è una buona quantità!